E sempre per le frequenze di Blade Paco, il nostro reparto tutto lame, c'era una volta lo stuzzicadenti del Texas, il Booker Urban Texas Toot Pick. Cos'è questo coltello che è così particolare? Beh ragazzi è interessante capire come nasce questa geometria perché anche storicamente ha delle cose di cui dobbiamo parlare. Vi ho detto spesso che i coltelli raccontano un po' il territorio da cui derivano e anche le abitudini di chi li usava, li usa e li porta. Quindi la geometria di un coltello non è mai da prendere troppo alla leggera perché ci dà degli spunti di riflessione. Ora nello specifico questo coltello del Texas, il Texas Toot Pick, lo stuzzicadenti del Texas, Beh ha probabilmente, perché non abbiamo dei documenti proprio a dimostrarlo, ma è facile immaginare come possa essere possibile che derivi dalla navaca spagnola. E' un coltellino da lavoro utilizzato soprattutto nella pesca perché è così sottile e permette di operare sui pescetti, di pulirli e sistemarli. E quindi dato che veniva poi spesso portato dalle persone, era conosciuto come strumento, veniva utilizzato per ragazzi, ovviamente finiva come arma nei duelli. Anche lui, anche questo. È un destino questo di molti coltelli che nel passato erano degli strumenti di lavoro, ma anche all'occorrenza delle armi nei duelli. Il Texas Toot Pick nella sua storia è stato anche chiamato Saturday Night Knife, cioè negli anni 60 quando si usciva con gli amici, con le ragazze per il sabato sera, e si portava a uno di questi che non si sa mai cosa può capitare, perlomeno negli Stati Uniti, perlomeno secondo quello di cui parla un po' la storia di questo coltello. L'interpretazione di Boker, invece, è una delle più belle e funzionali, perché la lama rimane quella del Texas Tooth Pick, che è praticamente anche la geometria iconica, con questa punta particolare che chiamiamo California Clip Point. Perché California Clip? Guardate come il dorso della lama arriva a regolare solo fino, ma che dico, a un quinto della lama e poi parte così. Dai, diciamo che arriva fino a un quinto della lama e poi parte così. Invece, se prendiamo, ecco qui, un clip point moderno, vedete come la lama, ecco, si vede così, prosegue dritto il dorso della lama fino quasi alla punta e poi l'ultimo tratto lo porta a rastremarsi. Chiaramente, nella lavorazione dei pesci, questa California Clip è superiore ed è super comoda. La lama è davvero sottile, ma non vi sbagliate perché taglia e non perdona. Il blocco lama è un liner lock, lo sentite scattare qui, eccolo che entra in funzione, blocca la lama in posizione e rende il coltello più sicuro. Nel tradizionale Texas Tooth Pick non è presente il blocco lama, ma ragazzi, siamo felici che Boker lo abbia messo. Lama lunga 84 mm per uno spessore di 2,5 mm, ma attenzione che inizia subito ad assottigliarsi, è tutta una lavorazione questa, si arriva in punta con un niente, è un laser questo se deve entrare. L'acciaio utilizzato è il VG10, che è lo stesso di molti coltelli da cucina per capirci, quindi molto resistente alla corrosione, ottimo. Manicatura in cocobolo, un legno prezioso e interessantissimo, o in G10, la vedete qui. L'apertura, un flipper su cuscinetti che è un amore, clic e si apre così, con un flip. Eccolo qui. La clip da tasca è in titanio e non è reversibile. Pesa solo 41 grammi, una piuma, ma soprattutto un'eleganza questo coltello, incredibile. A me piace da morire, devo dire che non ero un grande fan finché non ho iniziato a giocarci un po'. Apertura flipper, lama super sottile, un vero gentleman knife. E se vi piacciono i gentleman knives, beh ne trovate diversi su Backpack, li state vedendo passare a schermo, ve li lascio qui in descrizione. Anche il Texas Toothpick di Booker arriva con la sua custodia, con il suo foderino chiudibile da tenere in collezione. Ho sentito diversi appassionati e il bello comincia proprio quando iniziate a portarlo in tasca. Urban Texas Toothpick di Booker su Backpack.it